Ciao a tutti, eccoci con un nuovo video dopo tantissimo tempo che non ne faccio uno e vedo che ci sono comunque tante persone che stanno facendo video riguardante Luca Comics e quindi ho deciso di fare, anche su richiesta di Laura che saluto, ho deciso di fare il video su Luca Comics sulle mie impressioni e sugli acquisti che ho fatto allora in primis vi dico che sono andata sia quest'anno che l'anno scorso l'anno scorso è stata veramente una tragedia perché era veramente stracolmo di gente e quindi non si è potuto godere appunto della fiera mentre quest'anno sembrava più vivibile, io parlo solo del sabato perché l'anno scorso ci sono andate sia di venerdì che di sabato e entrambi i giorni comunque erano sabato pienissimo ma il venerdì anche non era da meno mentre quest'anno ci sono potuta andare solo di sabato tramite l'autobus che organizza la fumetteria che frequento e quindi siamo arrivati tutto a posto, era molto più vivibile, c'erano molti più autori da vedere o comunque da comprare comunque degli albi e lasciare a fare lo sketch il problema degli sketch è che l'autore è uno, poveraccio e la gente è tanta e quindi io che sono andata un giorno solo non potevo lasciare comunque gli albi perché per esempio sono andata dallo stand di Tony Sandoval e c'era talmente, cioè io ho chiesto se potevo fare lo sketch e mi ha fatto vedere dietro di lui che aveva tipo 3 o 4 scatoloni stracolmi di albi da sketchare quindi a parte che mi ha detto di passare il giorno dopo a riprenderlo ma io il giorno dopo non potevo e questo è il limite per chi va un giorno solo per il resto la fiera mi è sembrata come sempre, cioè non è che c'è stata diversità nell'organizzazione eccetera sempre la stessa fiera dell'anno scorso anche se hanno detto che avrebbero cambiato qualcosa ma non hanno cambiato nulla almeno apparentemente c'erano molte più cose da visitare, da fare tipo il padiglione di star wars o il palapanini che non ci sono neanche non mi ha sfiorato neanche il pensiero dei passaggi perché c'era già la fila e sono andata al japan town anche lì c'era tantissima fila ma tanta proprio e siamo entrati però abbiamo intravisto ma neanche più di tanto poi siamo usciti siamo andati in gli stand degli editori anche lì pieno di gente poi ci siamo dimenticati delle cose il problema lì appunto è fare la fila e quindi facendo la fila avendo di un giorno solo ti stanchi prima e noi ci siamo stancati quasi subito a parte i vari malanni eccetera i piedi doloranti che qualsiasi non mancano mai bisogna dire che a me luca comics in genere mi fa morire cioè nel senso io ci andrei sempre tutti gli anni il problema appunto è che quando ci vai un giorno almeno la mia sensazione è quella di non aver fatto quello che potevo fare perché ci sono tante cose da fare, tante cose da vedere e la mia sensazione è stata appunto quella di non aver potuto visitare quello che volevo visitare anche perché mi facevano mal i piedi sia a me che al mio ragazzo e quindi eravamo tipo meno mati insomma e quindi va bene questo è chiuso a parentesi io dico a luca comics se uno può di andarci anche solo per un giorno per vedere appunto la bellezza di questa fiera che a differenza di tutte le altre fiere ha quel qualcosa in più che sarebbero la selfaria per esempio quella l'ho visitata tantissimo e c'era quell'autore coreano bravissimo Kim qualcosa adesso se qualcuno lo sa me lo scrive qui sotto bravissimo bravissimo veramente mi dispiace di non aver potuto comprare quello che volevo comprare la selfaria però avevo soldi limitati però appunto la selfaria è quel qualcosa in più che ha luca comics che le altre fiere non hanno almeno quelle che ho visitato io ed è veramente interessante cosa che non ho potuto comprare perché non ho capito dove cavolo stava alla fine non era nella selfaria era agorafobia di dario moccia ma non perché dario moccia ma perché volevo ero curiosa di capire di vedere come è strutturato quel fumetto spero di avere l'occasione di acquistarlo anche perché mi pare costi 4 euro se non sbaglio e quello mi dispiace altra cosa che mi dispiace quella più di tutti è non aver potuto comprare polpette spaziali di Craig Thompson e quello mi è dispiaciuto veramente tanto perché però ho valutato bene perché 35 euro sono abbastanza e quindi vedrò se magari in futuro di recuperarlo perché purtroppo non ho potuto prenderlo sempre per i limiti dei budget ho dovuto infatti mi sono pentita di aver preso alcune cose potevo lasciarlo appunto per polpette spaziali però ormai è andata così lì quando sei a luca non è che capisci molto non ne capisci veramente niente poi se non ti organizzi prima dove andare, cosa fare, eccetera e comunque ripeto secondo me quella fiera è da fare il giovedì, il venerdì il sabato e la domenica personalmente lo sconsiglio oppure di andarci un giorno solo perché ne vedi la metà della metà della metà bando alle ciance comincio se non muoio con i miei acquisti della fiera e comincio con i gadget allora per quanto riguarda i gadget ho preso due gadget dei Digimon perché non lo so perché lasciamo perdere mi sono pentita di averli presi però ormai l'ho presi perché presa dell'entusiasmo di averli visti ho voluto provare a prendere quelli a scatola chiusa e mi è uscito Palmon oddio faccio come quelle che fanno eccola eccola Palmon che sono quelle scatoline a sorpresa cioè chi ti esce e Tentomon che è proprio quello che non volevo però insomma è uscito Tentomon e poi fuori c'erano i Gasha quest'anno hanno messo di Gasha cioè le macchinette dove metti l'euro una volta lì erano 3 o 4 euro giravi e ti usciva la sorpresina sia di Sailor Moon che di Shinchan se non sbaglio e alcuni di Naruto One Piece adesso non mi ricordo comunque io sono andata da quello di Sailor Moon a provare perché anche se sono stata allo stand bandai per chi mi conosce sa che sto collezionando gadget Sailor Moon per quanto possibile sono stata allo stand bandai lo stand bandai non c'era niente di che per chi acquista come me online però c'era in esposizione Sailor Pluto SH perché se ne intende Sailor V che a me sta arrivando e anche nella parte di Dragon Ball che c'erano delle belle cosine comunque io sono andata alla Gasha ho preso ho pagato 3 euro e mi è uscita il calice sarebbe la coppa lunare il calice Rainbow della serie S ed è questo sarebbe un ciondolo per un bracciale poi io adesso non so come lo userò sinceramente se mai lo userò e questi sono la parte gadget i due Digimon mi sono costati 10 euro tutte e due e la cosa 3 euro vabbè e fino a qui ci stiamo cominciamo e finiamo perché c'è poca roba con i fumetti non ho comprato manga non ho acquistato manga perché non c'erano varianti interessanti e comunque le novità le trovo nella mia fumetteria ed è per questo che non acquisto novità nelle fiere perché tanto dopo le ritrovo a parte che mi sono mi sono mangiata le mani per l'albo due fratelli degli stessi autori di Day Trip perché ho visto il video di Elisabetta che saluto che ho incontrato Eris Rom che saluto sempre che praticamente quello uscirà a gennaio se non sbaglio se non ho letto se non ho sentito male sarà quello il volume e quello mi dispiace perché volevo leggerlo ma mi incuriosiva perché Day Trip mi era piaciuto parecchio per chi non conosce Day Trip vi invito di andare sul canale sulla pagina facebook di 88ferro dove ne parla allora la mia vabbè la mia prima tappa non lo faccio in tappe nello stand sono andata nello stand degli editori e chi si è visto si è visto ah altri editori molto interessante se vi posso consigliare è l'editore Cosmo che è penso la casa editrice nuova o almeno io non la conoscevo prima di aver acquistato 28 giorni dopo quella l'edizione tipo bonelliana e lì ci sono delle cose interessanti solo che il budget l'avevo limitato ribadisco e quindi non l'ho potuto allora nello stand to new ho acquistato aspettando un monster allergy che questo qua veniva se non mi sbaglio un euro sì e qua praticamente ci sono tutte delle informazioni su monster allergy per esempio la geografia di monster allergy che è molto carina un albetto carino per un euro c'erano varie varianze da prendere ho preso quei sarche presumo che nelle altre non ci sia qualcosa di diverso comunque la mia il mio obiettivo è prendere monster allergy extra proprio per completare insomma poi sempre per monster allergy ho preso il numero 30 perché ho preso il numero 30 è l'ultimo numero finalmente di monster allergy a 5 euro perché ho recuperato tutta la serie ho recuperato tutta la serie dell'edizione non tu no quella del deluxe che costa 50 euro a volume ma quella vecchia che non mi ricordo di che casa di trece sia comunque quella albetti così spillati e questa l'ho recuperata grazie a clacca clacca è una una blogger di fumetti che vi consiglio di andare a visitare non è una frase in italiano vi consiglio di andare a visitare il suo blog che è a clacca piace leggere che vi consiglia moltissimi albia fumetti interessanti non solo manga ma per ampliare anche la vostra mente anche altri albia fumetti molto carini e da lei sapevo che un suo amico vendeva monster allergy l'ho acquistato e veramente ho fatto un affare perché ho risparmiato tantissimo e adesso con il numero 30 posso leggerlo tutto ad un fiato ho notato che il numero 30 rispetto all'edizione precedente è molto più basso e quindi c'è un dislivello non capisco per quale motivo la Tunue l'ha fatto così basso però si legge lo stesso andando avanti sempre nello stand della Tunue ho se non mi uccido ho recuperato avventure di un uomo in pigiama al seguito di memori di un uomo in pigiama di Paco Rocca perché mi ha divertito tantissimo e questo lo volevo tanto al prezzo di 14,90 euro ma lo stand Tunue come sapete se seguite la mia pagina facebook c'era lo sconto del 15% con il coupon a vostra scelta cioè sceglievate un coupon tipo c'era quello di Bombo il Monster Allergy o altri e potevate prendere tutto il catalogo col 15% di sconto io volevo tantissimo le avventure di un uomo in pigiama perché il primo mi era piaciuto veramente tanto consiglio a tutti Paco Rocca va bene l'autore di rughe ma anche questo questo gioiellino vale la pena è tutto a colori sono strisce dove parla della propria quotidianità insomma poi come sapete vi ho detto che c'era lo stand Tony Sandor ho fatto una foto e ho preso Mille Tempeste perché mi sono presa Mille Tempeste perché ho controllato guardato mi sono informata sugli altri albi di Tony Sandor e questo è quello che mi ha colpito di più sinceramente Tony Sandor mi piace mi piace molto il suo stile di disegno solo che non ho potuto farlo schiacciare perché ovviamente c'era la fila e niente la mia prima opera di Tony Sandor io lo seguo seguo i suoi lavori solamente sulla sua pagina Facebook oppure comunque seguo solamente le parti visive quindi non ho mai avuto modo di leggere un suo un suo albo questa volta l'ho preso perché appunto c'era il 15% di sconto e l'ho pagato 18 vabbè di solito si paga 18,90 euro questo bell'albetto rigido e questi sono stati i miei acquisti della casa editrice Tunue che io ho un casino di cose praticamente la mia wish list dalla Tunue e dalla Baopublishing comunque allo stand Denti Blu di cui mi sono pentita di non aver preso Adez o se si pronuncia così o Edez non lo so ho acquistato l'ultimo volume di sacro profano il paradiso al prezzo di 12 euro di Mirka Andolfo e dopo averlo acquistato come sempre abbiamo fatto la fila per lo sketch che era una fila abbastanza decente visto che ho sentito gente che ha fatto file peggiori e mi ha schiacciato Damiano e Angelina l'ho già letto e devo dire che è stato veramente fantastico leggere il finale spero che non sia il finale perché mi piacerebbe ancora leggere tanto di Angelina e Damiano adoro lo stile di Mirka Andolfo penso che lo stile che adoro di più in assoluto mi piace tantissimo ho adorato questa storia che è stata divertentissima non mi ricordo sinceramente come l'ho scoperta comunque tenderò ad acquistare penso che acquisterò manuale sexy e le altre opere sempre attinenti e sacro profano mi sono pentita e non avevo tanto è tutto un pentimento di non aver preso sia edex 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 perché è veramente disponibile alla mano è un'attrice bravissima e anche molto umile e quindi vi consiglio tantissimo perché se volete strapparvi due risate vi consiglio sacro profano perché è fantastico e per la denti blu ho finito continuiamo con la Bau per quanto riguarda la Bau Publishing ho pensato con il mio budget appunto limitato di prendere un'autrice italiana perché mi ho sentito parlare sempre da clacca perché io sono ignorante quindi apro chiudo parentesi su queste autrici autori perché molti autori vengono pubblicati anche dalla casa editrice Rembox siccome la casa editrice Rembox ha un pessimo come si dice sto rollaggio le spedizioni sono lentissime non tendono a non acquistare da loro anche se mi piacerebbe acquistare il secondo numero di un manga che avevo preso che vi avevo fatto vedere adesso non ricordo il titolo comunque mi avete capito perché segue la Rembox e allora ho deciso dopo aver valutato tantissimo di buttarmi su Flavia Biondi e quindi ho acquistato la Generazione è il mio primo albo di Flavia Biondi e sinceramente mi ha colpito molto la storia molti ne parlano bene e io l'ho pagato 14,80 euro perché quei 20 centesimi mi sono stati abbonati da nello stand Tuno e nello stand Tuno allo stand della Baopublishing perché stavamo lì a cercare le monetine e ci ha visto disperati e quindi niente appena lo leggerò vi farò sapere questo è il mio primo appunto volume di Flavia Biondi lo stile mi piace tantissimo peccato che non ho potuto prendere lo sketch neanche in questo caso perché non potevo fermarmi insomma ho le ore contate i piedi che non ne potevano più l'ultima parte è dedicata alla self-aria ci ho preso un volume alla self-aria alla self-aria ho comprato il numero 2 di Miss Hall di Giulia Adragna questa l'avevo sentito parlare indovinate da clac e ero intenzionata a comprare sia il primo che il secondo volume perché costano 6 euro l'uno questi volume il problema è che il primo volume era esaurito e l'autrice che era lì Giulia mi ha consigliato di andare su per chi interessa missall.net e lì c'è almeno il primo volume però ha voluto ho voluto che gli lasciassi la mia mail perché così mi contattava nel caso in cui venisse ristampato il primo volume questo va bene mi faccio vedere qua quello che mi ha scritto lei e mi ha lasciato tipo una specie di segnalibro e poi è l'unica è una delle uniche che mi ha fatto vabbè delle uniche sketch che ho avuto forse ed è molto carina e niente appena lo leggerò sia il primo che il secondo vi ne parlerò e questi sono stati tutti i miei acquisti poveri di lucca poveri cioè ho preso anche abbastanza per essere poveri e mi ritengo soddisfatta di tutto quello che ho acquistato sinceramente per come per concludere questo video dico che comunque lucca comics e games è da fare almeno almeno due giorni perché in un giorno vedi abbastanza almeno chi è un cosplayer che fai solo la fiera in giro per cosplay col cosplayer quindi non hai problemi di acquisto chi vuole acquistare io gli consiglio il giovedì il venerdì il sabato e la domenica lo sconsiglio caldamente però mi sono divertita ho incontrato molte persone per caso e va bene diciamo che mi sono divertita anche se ci sono stati problemi di salute qua e là e niente spero che il video vi sia piaciuto se volete sapere qualcosa di qualche volume me lo fate sapere qui sotto e ci vediamo al prossimo video ciao